1.500 uova di Pasqua, prive di etichettature non rintracciabili, sono state sequestrate a Napoli dai militari dell'arma. Il blitz rientra nell'operazione Pasqua a tavola, condotta dai carabinieri per la tutela della salute su tutto il territorio nazionale. Nei controlli sono stati impegnati oltre 600 militari dei 38 NAS dislocati in tutta Italia. Gli accertamenti hanno riguardato aziende dolciarie, attività di ristorazioni, strutture commerciali, stabilimenti per la lavorazione e distribuzione di pesce e carne. In provincia di Salerno è stata scoperta un'azienda dolciaria di notevoli dimensioni in pessime condizioni igieniche con incrostazioni e ruggini negli ambienti, sui macchinari e sulle attrezzature. All'interno della ditta sono stati trovati prodotti dolciari e materie prime scaduti anche da diversi mesi, congelati con apparecchiature non idonee e detenuti in maniera non corretta. I carabinieri hanno messo sotto sequestro l'azienda e circa 900 tonnellate di alimenti, denunciando il titolare per frodo in commercio e detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione per violazione in tema di irregolarità del rapporto di lavoro. Le violazioni amministrative e penali rilevate in totale sono state 126 e ai 99 responsabili segnalati alle autorità sono stati fatti verbali per oltre 110.000 euro.